A Giulianova continua a far discutere la situazione relativa al piano spiaggia. Infatti all'interno del nuovo piano di Magnale Marittimo non è stata inserita all'Unica Beach la spiaggia attrezzata per cani che si trova nella zona nord del lungomare Zara. Polemiche da parte della proprietaria Giussi Branella che annuncia il ricorso al TAR in caso di mancata modifica prima dell'approvazione in consiglio comunale. Il piano spiaggia non contempla la concessione appunto di Unica Beach al pari di tutte le altre concessioni tipo il Nuova Vita, l'Europa, il Costa Verde, qualsiasi altro stabilimento. Quindi non è presente nel piano spiaggia. Questo significa che il piano spiaggia è annullabile e se non viene inserita al pari di tutte le altre dovrò ricorrere al TAR e chiedere l'annullamento del piano spiaggia. I prossimi step quali saranno ovviamente anche tempistiche per questo probabile ricorso? Allora i tempi sono al momento, cioè entro la presentazione delle osservazioni. Dal momento che dopo la mia terza diffida il comune ha annullato la pubblicazione del piano spiaggia e l'ha ripubblicata con nuove scadenze che sono slittate di un mese ovviamente la scadenza per ricorrere al TAR slitta. C'è possibilità che venga reinserita la concessione dell'Unica Beach all'interno del nuovo piano spiaggia Giuliano? Ma io spero caldamente di sì per tutti quanti, anche perché allo stato attuale il piano spiaggia presenta delle lacune che sono delle carenze legali, cioè è un piano spiaggia nullo perché non presenta appunto una concessione di fatto, tra l'altro una concessione che è stata riconosciuta già dal Tribunale Amministrativo, quindi non inserirla è illegale.